Il caso è un caso veramente importantissimo, io quando faccio vedere i tuoi risultati quasi non ci credono, non pensano che sia la stessa persona nel prima e nel dopo. Il caso è proprio limite di diastasi dei muscoli retti, diastasi post gravidanza. Ti ricordi l'intervento dolore, non dolore? Com'è andata la descrizione obiettiva? Il post intervento è stato spettacolare, io mi sono svegliata subito senza nessun dolore. I giorni dopo? Se non avessi avuto un po' di tosse per me era tutto a posto, non ho avuto nessun dolore assolutamente. Quando ti ho dimesso a casa i primi giorni come andavano? Niente, niente. Ecco, come tua vita personale stai andando al lavoro, fai tutte le tue cose? Sì, ho ricominciato poi dopo un mesetto, ma anche prima ho cominciato a lavorare perché faccio lavoro in ufficio, seduta, poi ho guidato, tutto regolarmente. Ho pulito la mia famiglia, tutto. Va bene, ti ringrazio molto, grazie mille. Grazie mille.